Bella raga, qua è Savix che vi parla e bentornati per chi è nuovo nel canale ragazzi Oggi vi voglio portare un fanglitch divertente, l'ho visto da un americano ragazzi Mi sono fatto troppo ridere mentre lo faceva e ho detto ve lo voglio portare così se volete cazzeggiare E passare del tempo con i vostri amici lo potete fare Dovete dirigervi qua dal puntile ragazzi e dovete andare a ribaltare, distruggere, investire questi ombrelloni ragazzi Quindi una volta che poi li avete girati dovete riuscire a metterlo sotto sopra per far venire il glitch bene Se no anche se lo fate girato al contrario così ragazzi dovete prendere la pistoletta quella che spara i razzi di segnalazione Spararcela sopra e guardate è divertentissimo vi fa schiattare da ridere sta cosa Comunque sia raga una volta che siamo riusciti a ribaltarlo dovete poi entrarci dentro e sparare al centro con la pistoletta Sempre quella dei razzi ragazzi e vedrete che vi farà sparare verso l'alto Non è facile non sempre salta di brutto ma quando riesce raga è divertentissimo Guardate che figata pazzesca raga E niente questo è un fanglitch per passare del tempo e cazzeggiare Io spero che i miei video vi piacciono lasciate un like lasciate un commento iscrivetevi ragazzi E niente alla prossima bella raga E niente alla prossima bella